Ballando con le stelle 2023. La lite nel dietro le quinte. Il programma di successo di Millie Carlucci è giunto al termine e presto avrà il nome della coppia di vincitori. Ma nell'attesa proseguono i colpi di scena proprio come quello che interessa da vicino uno delle coppie che tra tutte ha catturato l'attenzione del pubblico in quanto a complicità e intesa. La chimica tra di loro è finita. Scoppia la lite nel dietro le quinte di Ballando con le stelle. Riflettori accesi su una delle coppie che fin da subito è apparsa sempre molto affiatata e complice. Stiamo parlando proprio di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano che, stando alle indiscrezioni rivelate da Caterina Balivo alla volta buona, sembrano essere andati incontro a una. A confermare la notizia la padrona di casa Millie Carlucci, dunque, davanti alle telecamere del programma condotto da Caterina Balivo. Ma facciamo prima un piccolo salto indietro. Come noto al pubblico, durante la semifinale, Lorenzo Tano si è trovato nelle condizioni di affrontare la rottura con l'ex fidanzata. Ed è proprio su questo aspetto che cade l'accento della questione. La prima lite tra Lucrezia e Lorenzo sembra essere sorta per questioni di gelosia, seppur tra i due non si parli ancora di amore. A rivelare tutto Millie Carlucci sollecitata da Caterina Balivo, mi sono affezionata tanto a Lorenzo Tano e alla sua meravigliosa ballerina. Io mi sono così tanto affezionata a questi due ragazzi dolcissimi. E devo fare anche una rivelazione, ha detto la conduttrice di La Volta Buona.